Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Infiltrazioni umide nella giornata di giovedì apporteranno parecchia nuvolosità in Liguria con anche la possibilità di deboli isolate e piovigini. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'imperiese. Ci attene una giornata nel complesso asciutta ma nuvolosa con solo la possibilità di parziali schiarite. Contesto climatico piacevole con temperature a tratti fino ai 14 gradi. In dettaglio sul Savonese ci attene una giornata asciutta ma anche qui nuvolosa con temperature massime comprese tra i 10 e i 14 gradi. In dettaglio diamo uno sguardo anche alla situazione attesa su Genova e dintorni. giornata molto nuvolosa con la possibilità di deboli isolate e piovigini nella prima parte della giornata. Temperature massime fino ai 12-13 gradi. Situazione praticamente analoga anche sul Tiguglio e sullo Spezzino dove transiterà molta nuvolosità nel corso della giornata da non escludere la possibilità anche qui di deboli isolate e piovigini specie nella prima parte della giornata. Le temperature massime non supereranno i 10-13 gradi. Ci attene una giornata di venerdì caratterizzata ancora da molta nuvolosità. In Liguria continuerà l'afflusso di queste infiltrazioni umide da segnalare delle precipitazioni principalmente sulla Liguria centrale nel corso della giornata e poi in serata piogge estese alla regione. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo. Grazie a tutti.